... ... ...que ha coinvolto... ...e capito, non è capito è vero... ...la PMS Sallara di Alex Capi. Fortunata la prova di Alex Capi che probabilmente è stato portato fuori forse da mi sembrava nulla la macchina che è passata lentamente ma naturalmente bisognerà poi avere notizie ecco infatti vedete in questo momento è a nulla che sta riportandosi in pista ma non l'è detto comunque